Musica Ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ci troviamo su Minecraft E allora non sono da solo E non sono in compagnia Ma sono solo con le... no le... No, Luca Dov'è Luca? Ciao Ok eccolo Allora, oggi ci troviamo su una... Perché la mia nave fa schifo? No, guarda che è uguale alla mia È solo che cambia solo la bandiera Ah, uguale Allora, oggi ci troviamo su una nuova... Una custom map Che abbiamo messo nel nostro server E non mi ricordo più da dove sono entrato Comunque Ah, da dove sono salito Va bene, mi farò un tuffo in acqua Yeeeh Allora Come vedete Questa è una custom map di... Due navi da guerra L'obiettivo Ovviamente è far affondare l'altro E come? Allora Qua ci sono In ogni fiancata Come vedete L'acqua e i buchi Stanno questi... Allora Mi sto caricando Allora, io sono Edward Kenway No, vabbè Eh, vabbè Ci sono questi cannoni Si dove si devono piazzare Questi... La TNT sotto E anche qua Vabbè Vedrete ora Quindi al mio via Scherzioniamo l'inferno Tu sei pronto? Ma al quarto... Al quarto blocco Devo pure schiacciare i pistoli Si Aspetta un attimo Aspetta Prima di partire Non fare... No, li devo caricare tutti Aspetta No, no, no Che tutti Oh Eh, si Com'è? Si Facile così Da 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 E qui li carica Caricali Che qui ti serviranno E qua... Ah, ecco Ok Al mio via Sei pronto? No, non vale Se inizi a sparare subito però No, al mio via Ok Ah, posso già andare? Ok Aspetta Pronti Partenza Via Io ti ho preso Ah, sei tu che hai sparato? No Coglione Mi hai fatto affondare la cosa Oh, no Io lo so Ok No, perché ha cominciato a laggare Non lo so perché Forse le TNT che fanno laggare Eh, ho trattato pure quell'altro pezzo Smettila Smettila di fare Ti odio No, no, vabbè Nessuno è più lento di me Cioè Con il lagg a favore pure La sfavore No, 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 no Ma che cazzo? Eh, ma perché Eh, no Oh, no Eh, dai Ho le fiancette tutte distrutte Ma c'è altro Ma almeno sparano Ma almeno sparano Sono cinesi Che? No, veramente Non sparano Non lo so Ah, non lo so io Allora Allora Ma devo prendere un altro Modo No ragazzi Mi sta battendo Cioè mi sta No, anzi no Mi sta battendo Mi sta battendo da solo Perché Cioè mi sta Faccio un'altra Aspetta Ah, vabbè È vero Io non ho sentito ancora niente Forse è meglio Dimmi che ha sparato Sica Dimmi che ha sparato Te l'ho preso un'altra Ah, ma la mia La mia nave Sembra ancora intatta Vabbè Cioè Eh, dazzo Dai No, raga No, dai Basta Non si può Ma te spara Eh, perché Almeno Ma almeno No, non è vero No, è scherzo No, ragazzi Allora O sono io che sbaglio Sicuramente Oppure la nave cinese Cioè Già si vedono i macchinari Come Come Laggano Gesù Ah Sì, vabbè Stanno andando Perché c'era morto Come hai fatto? Sì Sono saltato in aria Ah, vabbè Questo Eh, no Ho visto che sei saltato in aria Ma in aria Non ci ho visto io Come secondo me È notata Com'è? Tu ti stai distruggendo la nave da sua Ma non spara No, no Spara ma spara al contrario Di andare da sua Aspetta ma te Cioè Dai Deve aver Almeno un colpo Io usando l'acqua Che poi pure i cinesi Che poi pure i cinesi La puntata si chiamerà Cannoni cinesi Ci sei? Sì Ok Io aspetta Guarda un po' la mia nave Non lo so Di sicuro io sì Però Una cosa è certa A te intatta Buono Moduna No Che? No Ecco No Guarda Hai sparato Hai sparato Sì cazzo Sì cazzo Sì cazzo Fotti Ti fotti Com'hai fatto? Non lo so Con la tnt Uuuuh Fiancata distrutta Oh yeah Oh yeah Oh 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 yeah Com'hai fatto? Com'hai fatto? Forse non lo sai Ma questo è il dirty pick Yeee Com'hai fatto? Non lo so Con la tnt Comunque io vado a dormire Cioè Ovviamente tu sei un pirata E stai in guerra Vende Durando uno scontro Dalle barche Vai a dormire Cacchio Cacchio Eee Ah ok Dì come hai fatto? Oh veramente? Ho fatto Come Ho visto nei video Perché tu Ti distruggevi anche tu La nave da solo No Io sparavo Però Non lo so Aspett E forse mi mancavi Siamo in movimento No no Tu ti prendevi direttamente Tu ti prendevi da solo Eh sì Perché sbagliavo a colpire Cioè Da lag Mamma mia Che ti devo combinare No 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 Che fai? No No Io mi devi sentire Sparo No Questo cannone ha rotto Oh Bastardo Ok Ok Ma la guerra E guerra sia No No Figlio di Bastardo Oh Aspett Questa è l'unico Dai No dai Ragazza No dai Ok Finiamo così La puntata Perché non si può Dai Ma sei un bastardo Ciao a tutti ragazzi Ci vediamo alla prossima Ciao